Per noi era importante che l'8 marzo fosse appunto la giornata della donna, ma reinterpretata, appunto come diceva Monia, di solito si mettono in scena un po' delle belle statuine, si cerca un modo convenzionale di parlare della donna, invece per noi era importante smontare anche questa situazione, sia dal punto di vista teatrale, e quindi portando un varietà che per se stesso è qualcosa di organizzato ma totalmente anche spontaneo, e dall'altra parte anche smontare la figura della donna, attraverso questa sguagliatezza permettere agli allievi e alle allievi del corso di tirar fuori qualcosa di estremamente personale, magari di superare le proprie inibizioni e confrontarsi con dei generi che a volte vengono anche un po' come dire denigrati, come potrebbe essere un lip sync, cantare una canzone, rendersi ridicole oltre che sguagliate, e quindi è stata anche un'esperienza associata non solo teatralmente ma umanamente all'esperienza di chi ha partecipato al corso, quindi sarà una restituzione sguagliata e volutamente sguagliata e anche la risposta delle nostre allievi e delle nostre allievi è stata molto forte, molto entusiastica e questa cosa ci ha riempito di soddisfazione.